Ciao amici, bentrovati! Sono qui per ricordarvi un appuntamento super speciale, quello del 31, tutti sintonizzati su Rete 8 alle ore 22 circa. Non perdete una puntata meravigliosa di Fidati di me speciale Capodanno. Saluteremo il 2023 e diamo il benvenuto al 2024. Io vi aspetto con tutto lo staff di Fidati di me qui su Rete 8 ore 22, il 31 eh, mi raccomando! Ciao!